Domani pomeriggio al via la decima giornata dei campionati di eccellenza e promozione. Quattro gli anticipi previsti, due di eccellenza e altrettanti di promozione. Partita chiave per la Virtus Pozzilli che giocherà contro la Life. Quest'ultima, reduce dalla sconfitta contro l'ormai inarrestabile Campo Basso. Entrambe le squadre si trovano in basso alla classifica, Pozzilli con sei punti e la Life con otto. Arbitro del match Mattia Politi della sezione di Lecce. Un match testa-coda, quello tra il camprenzorio Vairano e Venafro. I bianconeri si sono portati al terzo posto grazie al successo 2-0 conquistato sul campo del Rocca Ravindola, con i gol di Patriciello e di De Gregorio. Arbitro della partita sarà Davide Calvarese della sezione di Termoli. Per quanto riguarda la promozione, l'Ermestoro giocherà con l'FC Molise. Entrambe le squadre vengono da due pareggi rispettivamente contro il nuovo vintiaturo e Rocca Sicura. Arbitro della gara Amedeo Carpano della sezione di Termoli. Infine il Civitanova giocherà sul campo Airino contro il Real Termoli. I padroni di casa reduci dal KO 4-2 sul campo delle Acli Torremagliano. Il fischio d'inizio sarà dato da Michele Dagnillo di Campo Basso.